Un saluto a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale di approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti, alle quali potete inviarci le vostre segnalazioni. Trovate qua in sovrimpressioni il numero di WhatsApp e la mail di redazionevallefoglia.it. Potete inviarci foto, video, messaggi di testo e messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp. Ma iniziamo subito con la prima notizia del nostro Vallefoglia Magazine perché proprio questa settimana sono iniziati i lavori per il nuovo comune di Vallefoglia. La struttura, che sarà realizzata con una tecnologia prefabbricata in legno, sarà di tre piani dove saranno distribuiti i diversi uffici. Il costo del nuovo municipio si asera intorno ad 1.458.000 euro. Inoltre, sempre questa settimana, i parchi di Montecchio e alcune piazze hanno delle nuove illuminazioni a LED. Vediamo il servizio. Sì, in settimana iniziano i lavori del nuovo comune in legno a Montecchio di Vallefoglia che ci consente di non avere più quattro sedi, Sant'Angelo, Colbordolo, Morciola e Montecchio e di avere una struttura nuova, d'avanguardia, con del risparmio anche nella gestione, una struttura predisposta su tre piani, a fianco alla Casa della Salute, il centro commerciale e a fianco anche, anzi di fronte, alla Scuola Federico da Montefeltro, una struttura molto importante con tutti i servizi a piano terra, diciamo, dalla sala consigliare a tutti gli uffici di primo impatto nell'opinione pubblica dei cittadini, nelle prime necessità e quindi in un annetto diciamo che per Natale prossimo, non questo ovviamente, dovremo avere il comune nuovo e quindi è un'opera importante, strategica per l'insieme della vallata perché insomma Montecchio è il cuore di tutta questa vallata a prescindere dai confini amministrativi. I lavori non si fermano qua perché proprio in questi giorni aree della città di Vallefoglia di Montecchio sono state illuminate con nuove luci. Sì, sono ultimati i lavori in Piazza della Repubblica, la sostituzione delle vecchie lampade gialle con delle lampade a led, bianche, che illuminano meglio la Piazza della Repubblica, l'illuminazione del Parco Enrico Berlinguer, lungo Foglia, ben illuminata e il Parco diciamo Volponi a fianco alla chiesa di Montecchio. Sono diciamo due parchi più sicuri, più illuminati, più fruibili appena passerà questa vicenda del Covid. Piazza della Repubblica, il cuore della vallata, ben illuminata. Abbiamo previsto altri 100 mila euro per renderla ancora più accogliente, quella piazza nel piano delle opere pubbliche e poi diciamo il Piazza dei quartieri che ancora devono iniziare i lavori e poi dei lavori che devono fare ancora sempre di illuminazione nel viale che va verso Piazza della Repubblica e verso la chiesa. E quindi sono veramente ecco due parchi e la piazza più sicuri, più carini, più illuminati e più fruibili diciamo in futuro quando le condizioni del Covid lo consentiranno. Quindi Vallefoglia continua con una serie di opere pubbliche importanti che si intrecciano a quelle private che ci fanno dire che è una città cantiere che crea lavoro, occupazione e prospettiva futura. Stanno ultimando in questa settimana anche i lavori della ciclo pedonale, sarà anch'essa illuminata, basta guardare di sera, io sono passato ieri e quindi diciamo che insomma ha più illuminazione, risparmio energetico perché le luci a led sono anche per risparmiare e migliorare l'illuminazione, la fruibilità e anche la viabilità, renderla più sicura. E in un periodo così complicato come in quello in cui ci troviamo c'è anche chi ha deciso di investire in una nuova attività. Da lunedì infatti a Bottega di Vallefoglia è attivo un nuovo servizio di posta e molti servizi gestito dalla titolare Francesca Esposito. Una necessità nata dalla mancanza di una posta proprio nella zona e noi di Orosini TV siamo stati a trovarli. Nonostante il periodo non fosse dei migliori per aprire una nuova attività, siamo riusciti lunedì il 16 di novembre ad aprire una nuova posta privata a Bottega di Vallefoglia in via nazionale 112 vicino al Conrad City. Grazie anche all'aiuto del sindaco Palmiro Ucchielli, del consigliere regionale Biancani e grazie anche all'aiuto dell'assessore Ghiselli. Noi abbiamo gli orari continuati dalle 9 alle 18 e il sabato è chiuso a causa il nuovo DPCM e finita questa pandemia saremo aperti comunque mezza giornata, orario continuato anche di sabato. Allora siamo riusciti finalmente a portare la posta qui a Bottega e dopo comunque sia parecchio tempo che provavano appunto a portare questo servizio ai vari cittadini di questo comune visto che comunque sia dovevano sempre arrivare in zona Montecchio visto che c'è un'unica posta qui nelle zone di Mitrofe. Come ha detto il mio principale Francesca Esposito siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, sabato e domenica siamo chiusi causa del nuovo DPCM e quindi vi aspettiamo qui in via nazionale 112 e vi aspettiamo numerosi ovviamente. Per quanto riguarda invece la parte dei servizi che il singolo cittadino può venire qua a svolgere se anche brevemente ce li elenchi? Allora i servizi sono praticamente uguali a quelli delle poste italiane ovvero ci occupiamo di spedizioni, pagamento bollettini, pagopà quindi anche ciò che riguarda insomma lente ci occupiamo delle visure, le ricariche telefoniche, bolli auto. Tutto ovviamente viene svolto nelle norme insomma di sicurezza che appunto ci riguardano tutti quanti in questo periodo l'ambiente è molto grande, molto spazioso, appena insomma il cliente entra c'è la torretta con il sanitizzante. Inoltre concludo dicendo che a breve sarà disponibile sempre ovviamente qui da noi il servizio a domicilio ovvero che l'incaricato quindi io il sottoscritto mi ricarò presso le abitazioni di chi appunto avrà il domicilio, di chi ne avrà necessità e potrà pagare comodamente bollettini da casa tramite post. E adesso una notizia di cronaca che riguardi le comune di Montellabate avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì. Quando una banda di ladri ha utilizzato delle gas per far esplodere un ebancomat della filiale della BCC Banca di Pesaro in via risorgimento 36. Immediato è stato l'allarme dato dai residenti e i carabinieri ma i ladri sono comunque riusciti ad intrufolarsi all'interno della filiale e da raffare una somma di contanti che secondo i primi rilievi si agira intorno ai 7.000 euro. Un'esplosione che ha letteralmente sventrato il perimetro della banca abbattendo le pareti nel vetro e nel cartongesso. I danni alla struttura, che per un paio di giorni è dovuta restare chiusa, sono di qualche migliaia di euro. E ora parliamo del tanto discusso tema del biodigestore perché se sono emerse novità durante gli ultimi giorni, le ultime settimane, è merito anche del webinar organizzato da Lega Ambiente e dalla provincia di Pesaro Urbino inedata a 6 novembre. Noi abbiamo parlato con la presidente di Lega Ambiente Pesaro, Rosalia Cipolletta, che ancora una volta ha ribadito l'importanza che può far valere la realizzazione di questo tipo di impianto. Sì, noi abbiamo organizzato il 6 novembre questo incontro e devo dire che è stato un incontro molto partecipato perché ci sono state più di 100 persone in collegamento fino alle 7 eventi, nel quale abbiamo cercato attraverso anche personalità che hanno grandi esperienze in questo settore di spiegare perché siamo d'accordo per la costruzione del biodigestore. Abbiamo iniziato dicendo che questo impianto non è da confondere con altri impianti che purtroppo ci sono stati nel nostro territorio e che hanno inquinato in quanto appunto impianti non adeguati. Io vorrei precisare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che il biodigestore che cos'è? Non è altro che un impianto che attua la degradazione della sostanza organica in maniera naturale, cioè attraverso dei microorganismi senza contatto con l'ossigeno e questo processo avviene all'interno di vasche chiuse ermeticamente, quindi che non possono fare affluire all'esterno né fumi né odori né tantomeno liquami. Quindi il problema inquinamento non sussiste. Chi ancora sostiene una cosa di questo genere vuol dire che non conosce, non vuol conoscere e questo secondo noi non va bene. E questa, quella dell'inquinamento, è una delle tante cose contestate da chi si è schierato apertamente contrario alle biodigestore. Un'altra invece riguarda quella del dimensionamento. Si è parlato tanto di questa cosa qua, ovvero di un impianto che sarebbe realizzato più grande rispetto a quello che è necessario. Sì, anche questa critica l'abbiamo sentita da alcune persone, per la verità non molte, però sì, alcune hanno proposto anche questo ragionamento. Allora il punto qual è? Che quando si va a costruire un biodigestore è evidente che noi dobbiamo riferirci alle esigenze attuali che nella provincia di Pesaro, come ben sappiamo, si aggirano sulle 50.000 tonnellate. Però non possiamo fermarci ad oggi perché questo è un impianto che presuppone un investimento grosso, importante. Parliamo di 30 milioni. Quindi dobbiamo guardare a quello che sarà l'esigenza anche fra 10 anni, 15 anni, perché altrimenti sarebbe un'opera sprecata. Allora in questa ottica è evidente che il biodigestore ha necessità di essere superiore rispetto alle esigenze attuali, ma ci sono altre ragioni per cui deve avere una certa entità e una certa grandezza e sono essenzialmente quelle del buon funzionamento del biodigestore, perché è evidente che un biodigestore per ben funzionare deve avere una certa struttura che gli consente di funzionare sempre anche in situazioni magari di maggiore ingresso di rifiuti. Questo è il punto. Lo ha spiegato benissimo il professor Marangoni, docente dell'Università Bocconi di Milano alla nostra appunto convegno del 6, a cui io rimando coloro che volessero approfondire questa questione. Preciso che abbiamo pubblicato su Facebook, su YouTube e sul nostro sito tutto il convegno. Quindi chi è interessato può riascoltare gli interventi qualificati che ci sono stati. Un'altra obiezione che è stata posta e che si collega sia al discorso inquinamento ma anche al discorso del sovradimensionamento è che riguarda i camioni, quindi il trasporto e la logistica che facendo un impianto, come si presuppone in questo momento, di dimensioni maggiori, qualcuno è ipotizzato anche per ricevere rifiuti da altre parti, non solo della provincia di peso urbino e quindi un aumento delle emissioni di CO2. Anche da questo punto di vista al convegno abbiamo affrontato il problema dicendo che quando il biodigestore sarà in funzione completamente avrà un ingresso di 30 camion al giorno, quindi un percorso di 30 camion in grosso modo, che verranno dalla provincia e anche probabilmente da fuori provincia. Però oggi noi, i nostri camion, quelli che portano la spazzatura in Emilia Romagna o in Veneto, fanno dei percorsi molto più lunghi, quindi se davvero vogliamo combattere la CO2 e rendere il clima, dare un contributo al clima perché diventi meno inquinato, abbiamo bisogno proprio di un impianto vicino a noi per ridimensionare appunto questi traffici. Ma c'è un'altra cosa importantissima che io credo vada sottolineata, con il biodigestore noi dai rifiuti ricaviamo che cosa? Ricaviamo biometano che poi diventa biogas, in sostituzione del gas che oggi utilizziamo e che è fossile ovviamente e quindi altamente inquinante e poi ricaviamo anche il concime naturale per l'agricoltura e questi sono vantaggi enormi anche sotto il profilo economico, senza pensare che un biodigestore comunque fra i 30 milioni per l'impianto e quello che succederà dopo per la gestione significa anche incremento dell'economia della zona. Io credo che tutte queste cose vadano tenute in considerazione. E sulle fronte dei contrari alla realizzazione di un impianto di biodigestore a Talacchio, l'associazione Diversamente, costituita poco più di un mese fa per la tutela e la valorizzazione della vallata delle foglie, confermi il suo punto di vista in merito e ci parla di una raccolta firme da parte dei cittadini. Diversamente che si è costituita recentemente, ad oggi conta già oltre 200 iscritti come soci sostenitori. È un'associazione di libera cittadini a politica e a partitica. Nell'ultima settimana abbiamo dovuto prendere una posizione netta che è quella del no al biodigestore. Non siamo dei negazionisti, conosciamo bene il problema dei rifiuti che tutti noi produciamo. Dobbiamo gestirli, ma dobbiamo gestirli nella maniera idonea che ne traggono un beneficio tutti e non pochi. Dobbiamo partire quindi dalla diagnosi del problema e non dalla cura come stiamo facendo. Sostanzialmente i punti su cui noi ribadiamo da tempo sono la mancanza del piano d'ambito. Comune e provincia fanno parte dell'ATA, Assemblea Territoriale d'Ambito. Quali sono gli altri scenari che hanno valutato? Quali sono le altre tecnologie che hanno vagliato? Quali sono gli altri siti di ubicazione? L'ubicazione di Vallefoglia comporta un incremento del traffico sulle infrastrutture esistenti, sulle strade esistenti, già di per sé eccessivamente sovraccaricate. Nell'articolo del 12 di novembre l'amministratore delegato di Marche Multiservizi parla di un impianto da 105.000 tonnellate complessive. A che serve un impianto di tale portata? Quando ARPA sulle proprie tabelle riporta la produzione di organico complessivo della provincia di Peso Urbino in 45.000 tonnellate. Manca il piano d'ambito in cui si analizza la situazione della nostra provincia. Manca la valutazione degli scenari alternativi e la VAS cioè la valutazione degli scenari strategici. Come ci possono dire in funzione di questi elementi mancanti che il sito di ubicazione proposto è il più idoneo? Dopo oltre un mese di sollecitazioni a sindaco, assessori e consiglieri dichiarano di non sapere nulla di tutto ciò. Come possono parlare ora di partecipazione condivisa quando è tutto parzialmente già deciso? Questo progetto ha ragion d'essere perché finanziato con soldi pubblici e coincentivi statali che vengono percepiti in base alla produzione del biometano. Entro il 2022 l'accesso per ottenere gli coincentivi, da qui la fretta che ne deriva di portare a termine quest'opera. Essendo soldi pubblici i cittadini avranno diritto di avere informazioni preventive? L'associazione diversamente in funzione di questi aspetti e delle risposte ad oggi che non abbiamo ancora ottenuto da nessuno è scesa in campo con una raccolta firme popolare. Sono in tanti i concittadini di Vallefoglia e dei comuni limitrofi che ci contattano privatamente e sulla nostra pagina facebook chiedendo come possono sottoscrivere la propria firma. Stiamo girando casa per casa, abbiamo fatto diversi punti di raccolta in primis risarcimento etico in via Paganini 21 a Montecchio e Mangani Luigi in via Nazionale 81 a Bottega, ma cercheremo di crearne altri, di presidiare i punti dove la gente comunque frequenta nelle disposizioni delle normative anti-covid e cercheremo di raccogliere quante più firme possibili. Chiediamo solo un po' di pazienza a tutti. Abbiamo intrapreso un percorso di informazione oggettiva e siamo fieri nell'ottenere il sostegno di tanti nostri concittadini in così poco tempo. Non ci fermeremo, è una questione di diritto. Personalmente sono molto preoccupata per questo progetto e soprattutto anche molto delusa da parte del nostro comune il quale ci dovrebbe dare maggiori informazioni su questo progetto in quanto organo più vicino a noi cittadini. Io abito nella zona di Talacchio, nella piana di Talacchio, una zona industriale, sì è vero, ma zona industriale non significa discarica e quindi non vogliamo un nuovo biodigestore, in quanto già io personalmente ne ho uno dietro casa di Biomass e tutti i giorni, veramente dico quasi tutti i giorni, mattina, pomeriggio, notte, c'è un odore veramente nauseante, anche tenendo a volte chiuse le finestre, entra dentro casa e quindi non vorrei che con questo nuovo progetto si andasse a costruire un biodigestore che tra l'altro è molto più grande di quello che già c'è, comporti un odore, un cattivo odore come questo che già dobbiamo sopportare tutti i giorni. Pertanto io come cittadina chiedo veramente al comune di non andare avanti con questo progetto nonostante ci dica che ancora non vi è nulla di ufficiale ma sappiamo che invece il comune qualcosa ha già in mente e noi vogliamo appunto come cittadini del comune avere maggiore informazione, maggiore trasparenza da parte appunto della pubblica amministrazione a noi più vicina in teoria. E in questo delicato momento per tantissime attività a Vallefoglia un gruppo di esercenti che cresce ogni giorno di più si è attivato per aiutare barre, ristoranti e tutte quelle attività che dopo il nuovo DPCM e il passaggio della nostra regione da zona gialla a zona arancione sono dovute rimanere chiuse. L'iniziativa che si chiama Io Supporto, un'iniziativa quindi di solidarietà nata dall'idea di Giulia Madori che in questo servizio ci spiega meglio come funziona. È un'iniziativa che è partita appunto per sostenere determinati esercizi. Poi però si è sviluppata e tutti insieme stiamo cercando di creare una rete grazie alla quale appunto un cliente può recarsi in un negozio e fare come regalo dei buoni per tutti gli esercenti che aderiscono. Quindi se io mi ricco ad esempio in libreria posso fare anche un buono per non so l'abbigliamento per scegliendo tra i negozi che hanno aderito e in questo modo si eviterà di girare troppo che in questo momento non è granché indicato e si sosterrà tutto il territorio. Sono tante le attività che hanno iniziato ad aderire a Io Supporto e ti chiedo anche quindi le modalità un po' come come funziona. La gente inserisce in una cassettina poi che cosa gli viene dato? Allora sì gli esercenti hanno risposto bene. Siamo già una trentina ma è una lista che è destinata a crescere di giorno in giorno. Considerate che l'iniziativa è di qualche giorno fa per cui insomma siamo solo proprio all'inizio e già molti hanno risposto bene. Sì quando un cliente viene e vuole donare mette i soldi in un'apposita cassettina che abbiamo preparato e dopodiché gli viene dato, gli viene consegnato un buono la cui matrice rimane ovviamente al negoziante per appunto recuperare il buono in un momento più favorevole. Ad esempio se uno volesse donare una colazione lo può tranquillamente fare per poi aspettare quando saranno tutti aperti in maniera regolare e farsi la sua bella colazione in maniera comoda. Però può anche appunto decidere di sfruttare questa occasione per fare i suoi regali di Natale e quindi in questo caso vengono rilasciati proprio dei buoni con scritto la destinazione del negoziante e sono più grandi, sono proprio formato diciamo gift card e poi ci occuperemo noi tra noi di organizzarci e distribuire i vari buoni ai negozi. Una bellissima iniziativa che è partita come hai detto tu pochi giorni fa da un video praticamente pubblicato su Facebook dove più che altro forse volevi fare anche una riflessione personale poi in tanti ti hanno appoggiato e simbolo che c'è ancora tanto del buono diciamo nelle persone. Sì per fortuna sì, sì è vero è partito diciamo quasi per scherzo da una riflessione mia e poi si è sviluppata quindi insomma penso che sia solo positivo. E proprio qualche giorno fa attraverso un'assemblea tenutesi online visto le normative vigenti i giovani democratici delle Marche hanno eletto come nuovo segretario il cittadino di Vallefoglia Andrea Orazzi. Con Andrea che al momento si trova a Bologna per motivi di studio abbiamo parlato delle sue sensazioni in merito a questa nuova elezione e anche dei progetti futuri. Praticamente il congresso è stato letteralmente qualche giorno fa è stato frutto di un lungo percorso per me è stata un'emozione essere è stato individuato da tutti i ragazzi come come figura che poteva ricoprire quel ruolo che sarà un ruolo di di grandi responsabilità è comunque frutto di un percorso fatto negli ultimi mesi e non solo tra tutti i territori per cercare di rialzare tutta una serie di rapporti che si erano un po' deteriorati. È anche il frutto di un ottimo percorso che ha fatto il nostro territorio sia nella provincia di Pesorurbino sia nel comune di Vallefoglia che come giovani democratici negli ultimi anni abbiamo sempre cercato di portare avanti. Invece per quanto riguarda anche come un po' è venuta la tua elezione in questo momento immagino tutto per via telematica. Sì esatto cioè questa qui sicuramente siamo in un momento storico dove vedersi non era fattibile e quindi per forza di cose abbiamo dovuto optare per fare un congresso online ci siamo collegati su Google Meet che è una piattaforma che permette di fare riunioni in maniera telematica anche tutti gli incontri preparatori anche tutte le iniziative ormai attualmente le stiamo facendo online anche quelle pubbliche proprio perché noi dobbiamo essere i primi a dare l'esempio e rispettare quelle che sono i decreti e le direttive che ci arrivano dal governo e dalle varie amministrazioni. Quindi sicuramente un atto di responsabilità è stato fare questa cosa online e nonostante il periodo non potevamo permetterci di restare fermi. Siamo reduci da una sconfitta parecchio sonora alle elezioni regionali e quindi come organizzazione a livello regionale stare fermi poteva essere deleterio. Per questo è stata un po' a volontà di tutti prendere e decidere di fare comunque questo passo, farlo online, farlo tutti insieme in maniera unitaria per rimettere in moto quella che era la macchina della nostra organizzazione nel livello regionale. Lo hai citato tu appunto le elezioni regionali che si sono tenute a settembre. Ti chiedo anche per ultimissima cosa, tu sei molto giovane, rappresenti i giovani democratici delle Marche, da dove un po' anche riparte il lavoro dei ragazzi e anche delle ragazze perché so appunto che è anche tua volontà coinvolgere la politica sempre più anche alle donne. Sì esatto, diciamo che soprattutto negli ultimi anni ma più o meno da sempre la partecipazione femminile è stata un po' problematica all'interno delle organizzazioni politiche. Ci si può nascondere dietro al dito del dire che la politica non è attrattiva ma molte volte anche dovuto al fatto che nella maggior parte degli organismi le figure sono quasi completamente maschili e quindi diciamo che dirottano le attività dell'organizzazione verso tematiche più attrattive diciamo a un pubblico maschile. Un esempio molto recente è proprio la nuova giunta regionale fatta dal neopresidente Cacquaroli dove sono tutte le figure solo una femminile. Noi come giovani democratici siamo consapevoli che tra le nostre fila sono molti di più maschi rispetto alle ragazze ma abbiamo comunque scelto di dare un segnale, di prenderci l'impegno e negli organismi quelli più importanti, quelli che danno l'indirizzo politico dell'organizzazione, cercare di rispettare al meglio quella che è la parità di genere per fare in modo che anche la voce femminile sia altrettanto ascoltata e presa in considerazione al pari di quella maschile. Tra le varie attività sicuramente ci sono la formazione radicalmente nel territorio che sono cose che alla nostra organizzazione ma a molti partiti politici di varie schieramenti sono mancate negli ultimi anni. Quindi sicuramente metterci a fare formazione sia per i nostri ragazzi sia per i vari segretari di circolo che sono le figure più importanti della nostra organizzazione nel territorio, tutti gli amministratori comunali perché comunque in tutta la regione abbiamo diversi ragazzi giovani che fanno parte del nostro gruppo che sono già stati eletti in consiglio comunale e poi c'è il radicamento territoriale perché ancora come organizzazione non siamo presenti su tutto il territorio regionale, molti comuni soprattutto nell'area interna sono, non siamo presenti, non abbiamo figure che ci rappresentano lì però ci sono anche belle notizie perché ad esempio da poco siamo riusciti a ritornare a riprire il circolo di Camerino che è una realtà interna della provincia macerata tra le più colpite dal sisma e quindi anche quello è un segnale di riavvicinamento alla nostra organizzazione anche ai temi quelli periferici e ai temi dell'entroterra, dell'area interna del nostro territorio. E ora concludiamo parlando di sport. Nelle campionate di Serie A2 di pallavolo femminile, nella decima giornata, la prima delle girone di ritorno, la Megabox Vallefoglia ha perso in casa alle tie break per 3-7-2 contro Soverato. Una battuta d'arresto inaspettata per la squadra allenata da coach Fabio Bonafede che riesce comunque a conquistare un punto prezioso. Ora la Megabox sa la quota 17 punti ed è sempre al secondo posto delle girone est a sulle due lunghezze della capolista Cutrofiano. Nelle prossimo turno una nuova trasferta per la squadra delle presidente Angeli visto che sarà impegnati in casa della IPAG Montecchio. E termina qua questa nuova edizione delle Vallefoglia Magazine. Io vi ringrazio per averci seguito sempre qui su Rossini TV canale 633 del Digitale Terrestre. Come sempre vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo sempre alle ore 19 e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.